Domani domenica 17 novembre festeggiamo la giornata mondiale della prematurità, anche qui a Pescara nel reparto di neonatologia e terapia intensiva. Ci sarà un concerto di una violinista, la signora Sara D'Ostilio, perché oltre alle cure mediche questi neonati prematuri hanno bisogno di altro, cioè di tante coccole, di una care che sia adeguata. Quindi proprio per questo abbiamo aperto la nostra terapia intensiva H24 ai genitori, abbiamo cercato di sviluppare quelle cure personalizzate che migliorano lo sviluppo neurologico dei prematuri. La struttura ospedaliera di Pescara è la più grande TIN d'Abruzzo, ricovera oltre un neonato su 10 nasce prematuro, quindi solo di prematuri ce ne sono almeno 250 l'anno, però i ricoveri sono almeno 750 perché nell'ospedale di Pescara è presente l'unica chirurgia neonatale pediatrica di Abruzzo e Molise, e quindi tutti i neonati abruzzesi e molisani che hanno bisogno di un intervento chirurgico alla nascita vengono ricoverati qui nel nostro reparto. Le associazioni sono molto importanti, sono di supporto soprattutto nel sostegno alle famiglie, nel sostegno psicologico, a volte anche economico, perché come voi sapete i prematuri nascono soprattutto nelle famiglie che presentano più disagio e quindi per noi è un grosso sostegno.